Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus e Paolus, decorum potestate e autoritate e confidimus, e vi si intercedan pro nobis ad hominum. Amen. Precevus emeritus, Beate Maria, semper virginis, Beate Micaelis, Arcangelis, Beate Ioannis Batiste e Santorum Apostolorum Petri e Pauli et Omnium Santorum. Miseriatur Vestri, Omnipotenteus, et dimisis Omnibus Pecatis Vestris, per Ducat Vos, Iesus Christus, ad Vita Maternum, Amen. Indulgenza, absoluzione e remissione peccatorum estronum, spazio vere fructose penitencie, cor sempre penitenz, et emendazione in vite, gracia e consolazione, Santi Spiritus, et finale in perseverancia in boni superi, trivo ad Vovis Omnipotens e misericordominus, Amen. Et benedictus Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat supervos et maneat semper. Amen.